Terzo progetto per il Salone del Mobile quest'anno è Favilla ed è una magia di suoni e di luci ma anche una sorta di lezione sulla luce Favilla è proprio un'installazione che vuole essere un racconto, un racconto sulla luce quando penso alla luce non penso tanto alla fascia di luce o all'illuminazione ma penso un po' al senso di mistero che si cela dietro di essa perché la luce ha origine corpuscolare, ha origine ondulatoria e quest'anno è l'anno mondiale della luce, è l'anno mondiale dell'UNESCO e quindi abbiamo cercato anche un evento che oltre a una parte spettacolare abbia anche un aspetto scientifico, proprio di educazione, di scienza e di cultura e Favilla coniugherà all'interno la spiegazione quasi didattica di come si muove la luce nello spazio quindi attraverso la propagazione rettilinea, la diffrazione, la rifrazione, la rifrezione e anche a tutti quegli elementi vitali ad essa coniugati dalla fotosintesi clorofiliana all'arcobaleno Favilla ogni luce una voce, questo nome perché ad ogni suono verrà associata una luce come fosse proprio una persona, una persona da scoprire Grazie 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 Grazie